saluto da andrea castriotta e benvenuti alla nuova puntata di capitanata in sport magazine ovviamente su un mitico channel e anzi colgo l'occasione per salutare viaggio porricelli e tutti i ragazzi che si stanno spendendo benissimo per questo canale che dà davvero tantissima visibilità a tutte le cose belle di foggia e provincia bene entriamo nel tg sportivo ricordiamo il primo incentrato su tutti gli sport della nostra terra ad eccezione del calcio e parliamo di pallavolo femminile con il derbissimo in serie b1 girone d tra di lillo libera virtus cerignola e bcc sgr volley manfredonia terminato con il risultato di 3 a 1 in favore delle cerignolane che con questa vittoria salgono a ben 20 punti in classifica mentre le ragazze sipontine sono sempre penultime a 12 punti come avete notato dalle immagini voglio ringraziare l'amica bruna appunto per averci concesso queste fantastiche immagini in serie b2 girone i la pallavolo cerignola batte l'olimpia paumar siracusa per 3 set a 2 questa vittoria fa sì che le ragazze salgano a 34 punti al quarto posto davvero un campionato eccelso per queste ragazze ricordiamo matricola ossia la prima volta in b2 scendendo di categoria in serie di girone a l'aquila azzurra trani batte purtroppo l'olimpia ortanova per 3 set a 0 perde anche farmacia fare su cera in trasferta a bitetto per 3 set a 0 infine il derby tra foggia volley ed sg svg energia lucera va appunto alle padrone di casa che si impongono per 3 set a 0 in classifica le foggiane di valeria di mauro sono a 34 a 34 punti al quarto posto un po più giù troviamo le ragazze della svg energia lucera dei mister della coppiata danilo barbaro fausto baccari con 23 punti seguite a ruota dalle cugine lucerine della farmacia farsucera di giovani furno a 21 punti mentre le ortesi di antonio massa sono purtroppo ferme a 12 punti terz'ultima posizione in per quanto riguarda il mondo dei maschietti in serie c l'errico tecno master beats vince in trasferta contro toma carburanti ruffano per 3 set a 0 la ds group lucera risponde bene ai cerignolani e vince in casa contro sintec volley cassano infine lunipol sai lucera purtroppo cede in casa contro laica volley lecce per 3 set a 1 in classifica è appunto una questione a 2 in quanto l'errico tecno master beats lucera è prima a 35 punti seguita a ruota dai lucerini di giovani furno della ds gruppo lucera a 3 lunghezze appunto a 32 punti purtroppo un po più giù ci sono gli altri lucerini della unipol sai lucera che purtroppo sono penultimi a 10 punti e ospitiamo che i ragazzi si possano riprendere per conquistare una salvezza tranquilla adesso cambiamo sport parliamo di pallacanestro maschile beh l'allianz pazienza san severo vince ancora una volta contro giulianova basket 85 con il risultato di 81 a 63 come vedete dalla grafica estrapolata dalla pagina facebook della cestistica che invitiamo tutti a seguire e per quanto riguarda l'altra nostra squadra la castellana udas cerignola purtroppo perde in trasferta a matera contro l'olimpia matera per 73 a 65 peccato per gli ufantini che comunque avevano hanno disputato una buona partita basti pensare che nel quarto e ultimo quarto appunto avevano raggiunto i padroni di casa li avevano superati ma poi insomma hanno avuto un calo fisico e psicologico insomma il risultato la dice lunga in serie c silver grande giornata appunto per le due nostre compagini con la silac manfredonia che vince in casa contro la cestistica ostuni per 73 a 60 e la sunshine vieste che addirittura asfalta possiamo dire la nuova pallacanestro montironi con il risultato tondo di 95 a 69 ben 26 punti in più complimenti ai ragazzi di francesco de santis in serie d purtroppo dobbiamo constatare le due nostre formazioni foggiane che perdono entrambe entrambe tra l'altro il diciamo il calendario ha rifilato uno strano scherzetto in quanto le foggiane erano a contendersi le partite con due squadre di moffetta appunto la diamond foggia perde in casa contro virtus moffetta per 64 a 60 mentre il cus foggia basket è battuto in trasferta dalla pallavolo moffetta per 72 a 62. Buona partita di entrambe le formazioni foggiane che speriamo si stiano tra virgolette risparmiando per le partite più importanti dei playoff per la diamond e dei play out per i cussini adesso scendiamo in promozione girone a nuova virtus corato batte frassati san giovanni rotondo per 91 a 81 nike terlizzi batte virtus foggia per 75 a 68 mentre la sveva lucera vince in casa contro new basket barletta per 58 a 57 complimenti ai ragazzi che mantengono saldamente la prima posizione per quanto riguarda barletta basket basket lucera purtroppo non siamo in grado di darvi il risultato in quanto ricordiamo che la registrazione di questo programma avviene intorno alle 20 e 30 21 di domenica e non siamo appunto in grado di darvi questo risultato ce ne scusiamo davvero tanto ultimo servizio di giornata per quanto riguarda il rugby qui dobbiamo aprire davvero una bella e grande parentesi in quanto in serie c2 il foggia rugby vince in casa contro rugby corato per 31 a 6 ricordiamo le mete di saponaro cassinese daddario e renzulli adesso vogliamo farvi diciamo presentare un video fornito dagli amici del rugby dove appunto si vede l'ingresso delle due squadre e entrambe diciamo danno un saluto all'avversario davvero questo è per sottolineare come questo sport che sembri molto maschio sia davvero molto rispettoso nei confronti degli avversari che si vede l'ingresso del rugby bene entriamo di nuovo in studio parlando degli under del foggia rugby che asfaltano i parietà del taranto vincendo per 69 a 14 come vedete in sottofondo un piccolo stralcio della partita e vogliamo ribadire le tre meti di capitano zingaro altrettante di bisceglie, due di pompei e una meta a testa per crescente massarelli e delicari davvero complimenti a questa grande famiglia di tutti gli amanti del rugby perché stanno facendo benissimo sia i piccolini che ormai hanno stravinto il proprio campionato ma anche i grandi si stanno difendendo per quanto riguarda la palla a mano ricordiamo che la Serie 2 riposa e la Free Time Manfredonia, gli Shark scenderanno in campo sabato prossimo 24 contro la Lazio in trasferta bene, questo è davvero tutto ricordo che tutti gli amanti di tutti gli sport possono inviare una mail all'indirizzo info-capitanatainsport.it segnalando con un breve video qualche fotografia i risultati delle proprie squadre ricordiamo è gratuito vi ringrazio perché stiamo crescendo sempre di più in ordine di ascolto e speriamo di farvi un regalo la prossima edizione riuscendo a proiettare delle chicche davvero speciali non voglio aggiungere altro pertanto ancora un grande saluto e viva tutto lo sport della nostra terra grazie, grazie mille, a presto grazie mille, a presto